Io però vorrei farvi vedere un titolo che è uscito oggi sul tempo che la riguarda direttamente, forse l'avrà vista, ecco qua, Suma Salis. Alla luce della candidatura vincente di Ilaria Salis alle ultime elezioni europee il tempo di Tommaso Cerno riesuma la candidatura che Alleanza Verdi Sinistra aveva offerto e che era andata in porto di Suma Oro, sindacalista dei braccianti e che poi è finita come tutti ricordiamo. Come risponde a questo titolo? Perché qui nel mirino c'è la vicenda di dichiarazioni di Ilaria Salis sul diritto all'abitare, sulle lotte per il diritto alla casa. Ma anche prima delle dichiarazioni, insomma, è nel mirino. Lo so, no, ma perché? Io rispondo dicendo che lo considero una schifezza, ma una schifezza tipica di chi considera le lotte come questione di ordine pubblico. Io mi dispiace e non sono d'accordo. A chi si è scandalizzato ieri i balanghi di dichiarazioni di tutta la destra in fila, la stessa destra che ogni giorno ci offre condannati, arrestati, patteggiati, c'è una fila infinita. Io potrei fare un lungo elenco. Però la frase nel minimo è quella di Ilaria Salis che dice... Rivendico di aver occupato una casa. Sì, e combatto l'idea che possano esserci delle case sfitte. Combatto l'idea che ci siano case sfitte. 19 mila case in Lombardia, gestite dall'Aler, sono sfitte. Io combatto l'idea che ci siano un milione di persone in questo paese che non possono pagare l'affitto. Combatto l'idea che ci siano, negli ultimi cinque anni, 236 famiglie a cui è arrivato lo sfratto. Combatto l'idea che mi arrivino lezioni sulla legalità, sulla casa, sul diritto alla casa, sugli interessi popolari, da un governo che come primo atto ha svuotato il fondo affitti, 300 milioni, per regalarli alle società di calcio di serie A. E ha mandato per strada migliaia di cittadini e cittadine che nelle nostre periferie non ci hanno più un tetto sulla testa. Sì, io combatto quella idea lì. Combatto l'idea che le lotte, le lotte, siano questioni di ordine pubblico. E anzi, penso, spero, che ogni volta che c'è un'ingiustizia ci sia qualcuno che si organizza collettivamente per rivendicare un diritto nei campi, nelle città, sui posti di lavoro. Perché quello che ha detto Nadia Orbinati è il punto col quale oggi ci misuriamo. Quindi lei non la considera una frase di un ritorno? Che rischia di scivolare nella barbarie. Nella barbarie, ma non perché, prima ha detto giustamente, chi mi si era accanto, che c'è una questione che riguarda la barbarie che ci colpisce terribilmente, la banalità del male. Ma la banalità del male non è mai un fatto isolato, non è il mostro isolato che rompe la normalità. La banalità del male è il frutto di un contesto che lo naturalizza, che lo normalizza. È come quando discutiamo dei femminicidi. La prima cosa che viene fuori è ma quello è un mostro, non è un mostro, è il frutto di una cultura che rende possibile quello che accade quotidianamente. E se a Latina è possibile che in un bar, che in un bar abbassando la telecamera, qualcuno dica con quelle parole, no, ma noi li sfruttiamo, anzi, che faccio, li regolarizzo per un giorno, anzi, gli sto facendo un piacere. Quello che sta passando è l'idea che il lavoro non sia un diritto, ma sia una concessione, sia un privilegio, che i diritti siano concessioni. E di fronte a questo è giusto ribellarsi. Io questo lo rivendico con la massima convinzione.